Ciao a tutti, la domanda divertente di questa settimana è stata ma in che percentuale vanno bene gli appuntamenti che organizzate? Bene, distinto avrei risposto, sono andati tutti bene. Invece, attraverso il CRM, ho calcolato quanti sono gli incontri che sono andati a buon fine nei 12 mesi successivi. Forse non ci crederete, ed anch'io quando ho visto il numero ho voluto controllare ben tre volte. Oltre il 70%, il network di qualità fa la differenza. Concentrazione, concentrati in azione.